un cordiale saluto al tavolo della presidenza innanzitutto e poi a tutti i presenti in sala il mio istituto per il terzo anno così come l'istituto Mazzini come anche lo Zalepo ritengo per la terza annualità che aderisce al progetto di Open Cohesion aderisce a questo progetto con grande entusiasmo, i ragazzi partecipano con curiosità e entusiasmo di apprendere e certamente questa curiosità e questo entusiasmo sono in parte legati alla competenza dei docenti che li guidano nel mio caso professore Saro Giudice e professore Bonaparte ma anche sono legati alla natura stessa del progetto alla sua natura intrinseca è un progetto che come diceva la professoressa Polifrone mette in circolo e in relazione più competenze di carattere disciplinare e non grazie a tutti i nostri amici grazie a tutti i nostri amici